Ci siamo, finalmente iniziamo, siamo pronti, o perlomeno ci arriviamo come speravo ci arrivassimo. Abbiamo fatto una partita ufficiale prima dell'inizio e siamo contenti di iniziare, poi il percorso è lungo, vorremmo già incidere dall'inizio e vorremmo che già fosse positivo dall'inizio, però sappiamo che è lungo e step a step poi otterremo quello che meriteremo. È doppiamente bello perché sarà proprio la prima del campionato per noi e la prima della Serie B, quindi doppiamente emozionante per certi aspetti, non ulteriormente responsabilizzati, ma è la prima. Ce ne saranno altre 37 dopo, però va affrontata col giusto piglio perché affrontiamo una squadra già molto organizzata, che già si conosce e che nel precampionato ha fatto molto bene. La squadra sta lavorando bene, bene dall'inizio, bene durante, bene nel ritiro, bene ora. Sono molto contento di quello che stanno facendo i ragazzi, dobbiamo essere bravi a riportarlo sempre in tutte le partite. Questa settimana abbiamo lavorato in funzione della partita di Brescia. Poi vedremo perché davanti avremo un'altra squadra di valore come noi, una squadra che vorrà fare il massimo davanti ai loro tifosi, ma dal nostro punto di vista noi avremo sempre chi ci sosterrà e vorremmo sempre far sì che i nostri tifosi siano fieri di noi. Diciamo che entrambe nella prima gara ufficiale siamo riusciti a passare il turno, noi contro il Parma, loro contro il Venezia, hanno fatto una partita veramente importante in Brescia. Squadra, come ho già detto, organizzata, allenata benissimo, con giocatori di categoria, una squadra che ha già avuto una striscia positiva l'anno scorso nel cambio, ne ha giovato, ed è ripartita con la stessa organizzazione e l'ha dimostrato anche nella prima partita ufficiale. Quindi ovviamente è una squadra che rispettiamo, ma così sarà sempre. È una squadra che sappiamo sarà organizzata, al tempo stesso abbiamo le possibilità, le qualità per mettere in difficoltà e ottenere un risultato positivo. Sarà bello tornare a casa, perché ad oggi, io per primo, sono stato solo tre giorni a Palermo quando c'è stata l'ufficializzazione e la conferenza stampa, quindi ad oggi la squadra, per motivi organizzativi, perché abbiamo giocato fuori casa in Coppa Italia in campionato, non siamo mai riusciti ancora a tornare, quindi siamo felici di tornare e doppiamente felici di fare il primo allenamento a porta aperte, in modo da poter unire la passione dei tifosi con la determinazione della squadra in un tutt'uno, perché poi questo è quello che dovrà essere sempre. Quindi queste cose sicuramente, se faranno bene, ma sicuramente sarà così, le ripeteremo anche.